Vai, vai. Pronti? 3, 2, 1, via. Sì, lo scontro finisimo, attenzione. Giocomastro. Sì, lo scontro. Automatico. Sì, certo. Qua è in fuorigioco. Cazzo che puro. Sì, c'è in fuorigioco. Rientro. Ok. Sì, bene. 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 Grazie a soldi. Grazie a cuore. Mi metti qua e fa questi numeri qua Paolo. Sono dei numeri. Sì, in fuorata grande. Sì, in fuorata grande. Sì, è su questo modo, è da fuori lì Paolo, no no, puoi giocarla la che inizi più avanti e palla, bello. Qua si parla di trance, vi ricordo che non siamo ad Altavilla. Sì, l'ho parata quant'è, din don don, 3 euro di un fagiato. Con il gumio, ti sia, no, infatti hanno trattato uno, due, 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 due. Fallo, batte questo Paolo, uno e due. Grazie. 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 Taś. Poraż. Grazie a tutti. Grazie a tutti.